Ciao a tutti ragazzi, c'è questo canale di atteggi, stanno male Non mi fido, la tazza è il vero cattivo della storia Quindi si è pur girato Mi si seguono ragazzi, è praticamente cattivo Ma comunque penetrato è il cattivo Senza dubbio ragazzi Comunque ragazzi, quando noi ci siamo a canciare le bande, continuiamo Tanto ho appena sbloccato i miei titoli I titoli che andiamo a vedere ora Perché non provo mai il tasso a debito dei titoli Nel nuovo dovrebbe essere bombastassino Se il titolo è uno dei nuovi Allora effetto metto attacco Non è questo Nelth Hp-100% Dany da Ia vs X Tutto qua mi fa conto del mio nemico Hp-100% Dany da Ia vs X Io comando Vot Poi c'è questo nome qua, dovrebbe essere... non potrebbe essere... Perché non le mettono in ordine? Intrappellente Se effettivamente devo imparare a leggere io Questa no Allora Mettiamo al limite Che mi da più velocità attacco? No Sottolineo cosa c'è con il diaf Da no attacco Facili Eh... sì Parco giochi Ah Mettiamo questo Così mi metti a solo un po' la vita Il cazzo che adesso la vita non si rifiuta mai Ma comunque questi ragazzi siamo... Non volevo parlare con te mockery Sono dici te Questi ragazzi siamo già anche a buon punto potete vedere Ma anche realmente proprio quelli li vediamo Tutto io schifo veramente le cose velocemente Non come dovrei qua Ovvero per me il testo salta Adibito a code questa funzione A caso mai se mi interessa leggere Ecco qui 15 anni fa Le persone pericolose venivano bruciate Sì Ah Fotto Forse per rendere in questo è quello speciale Ma in oggi ognuno lo sè Ehm Mh Fotto ragazzi Ignorate i rumori di trapani che si sentono Questi sono quei suoi che si sentono Provenienti dai miei vicini No Ok va Cioè dobbiamo andare a parlare con... Un... Puncio verde Un... 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 non ce l'ho potuto dire sino che erano vicini è in secondaria ah in secondo scusate è in secondaria vedete nerd e scavatoria casco il nome Diego Fugaccio si effettivamente come va tutto non c'entra niente quello qui e infatti ragazzi dovremmo andare qui c'è la terza guerra mondiale finiamo qui che c'è appunto qua la guerra la guerra come si diceva alle mie parti non l'abbiamo fatto non si è mai detto Kperra una volta si è detto in modo molto comico ovviamente perchè c'è la Kperra è una bellissima casa abbandonata bellissima dipende di chi c'è il posto questo non è un'idea del posto in questo luogo in questo luogo ci sono le mie compagnie in questo luogo in questo luogo in questo luogo non c'è che cosa mi dicono che qua la gente ci sia sempre non c'è che cosa non c'è non c'è ma non c'è ma c'è un giro eh che cosa vabbè io ho parli a non fare domanda se no anche i danni giuanti io ho giocato a questo luogo poi mi l'ho già detto il luogo quindi mi dirlo non c'è fiamma ho beccato tutto il mio poi in teoria vedete qualcosa giusto nel dubbio poi se ne vedi che in realtà non ha queste non utili e di solo non fai più timer che ci penso abiti sesamo e gli abiti mi diverso questo è quello che mi ha giocato Skyrim che è arrivato la immagine che era all'alto che si è letteralmente azzitarmi come l'ho visto oh mio Dio e poi sicura che se un gioco in questi boss si è rilavorato della classe in ultimo secondo missione principale ok perfetto è la mia tattica e le mie combinazioni di mosse cominciano sempre tanto quanti minuti che ne sto posso sono praticamente i settimini che sto girando qua seriamente ok scudo di che è una bella cosa spesa ok quello che mi piace la finita in teoria ok poi mi aspetto un momento lato non ho scato infatti azzitarmi azzitarmi i miei nemici sempre con le pisollette in questa storia lì perché vola ah non ok non vola ah non che vola ah non che vola non ho scontro io non ho scontro ma non ne ho scontro io non ho scontro non ho scontro ma non non ho scontro allora adesso che non hanno scontro la invece quindi per attraverso magari è possibile ok Ah mio Dio Ci farò uno stufato un po' a tumba Non è incredibile Questo è uno spettacolo C'è 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 uno spettacolo E' una lanterna C'è uno spettacolo Questo non è un valzo elettro C'è uno spettacolo Si C'è questo Di fiocchi Che sono C'è uno spettacolo C'è uno spettacolo Un'istitua di battaglia C'è uno spettacolo 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 E' una lanterna E' una lanterna E' una lanterna E' una lanterna Questa è una lanterna Questa è una lanterna Questa è una lanterna Allora Un giorno mi ricorderò Il sequestro E comunque è un sequester ho fatto che rispondiamo così via tutto ciò portico dio questo è il suo un quadro più pochi per farmi la casa ebbene sia se la casa fosse un casino inizio l'ho fatto vedere anche c'è mica la gente si urla da lontano ma noi non possiamo andare addosso per parlargli ok e rientriamo ah dobbiamo essersi livello 20 quindi con questa probabilmente si come fa così ho fatto i grazi a partire da solo lontano con una cosa a parte non prestato di troppa attenzione il settore di battaglia è piacevole a volte piove Grun Grunnit dal cielo di cui la cosa buffa se non gli attacchi se ne vanno sono dei masochisti in sostanza e li facciamo questi mi stanno ancora aiutare tutti però questi mi stanno anche a partire e nel faggio avrei voluto portare anche a fine o in un jack tutto perchè non mi si illumina il cosore di presto non ci pensi che se è altro non ci sono delasso poi in un'unica neppi non sono davanti l'unica è un'unica è un'unica è un'unica è un'unica è un'unica è un'unica quindi se uno ne è un'unica mentale se uno ne è un'unica 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 è anche uccata però sono perquè si dico in pequeño perchè mi impappino sempre negli angoli più brutti forse hanno fatto i team di tutti quanti avanti per cui li faccio? per cui li faccio? peccati! oh no dei nemici li ho scoperto e li hai schivati, proprio li devo schivare a schivare c'è mentre attaccavo l'ho ucciso? L'ho ucciso! Siamo sette di questi armatori di rani ha cacciato gli insetti Solicità Chi sono io per contragliarti? Tocco, c'è chi è? Il lupo mangia fuori Non era quello che volevo fare la mossa qui Ho diciamo di provare ad utilizzare un PSB Un L4, cioè una delle due abilità che non mi aiuta mai Non è quello che ho messo Non è quello che ho messo ah ecco che li sono chiusi hai una luce di vento? no lo sappiamo gli spazi sono tutti uccidi ah no credo che sono tutti uccidi c'è una volta ospite che tu mi spagliate o ti vuoi attaccare in nuovo che li dite un po' di fai che li dite un po' di fai che è un po' di fai può provare di uno la messa di suga oh, oh, prefero spyperman, you don't want to you don't want to do something e ora non cazzo effettivamente ha tutti i documenti con tutto il bosso, mi sto uccidendo non posso farmi uccidere comunque guarda, io sono, ma non è così ok, non so nemmeno come l'ho ucciso, ma ok fingiamoci di queste cose qua le abbia fatto io intenzionalmente ah, sì, vedete ragazzi, i gente sono forte nel prossimo episodio li livellerò ma non prima di aver parlato con lei no, in realtà, cioè, io ho ragazzi, mi stacco insomma, ci vediamo ragazzi, ragazzi, in un prossimo episodio di solo ok